...precise e comincio a dirvi, meno 5, un attimo, io sconti, ah, vai, c'è il tronometrista di... Ok, il tronometrista della Darsena è in viva voce e io dico di nuovo, meno 5, 4, 3, 2, 1, via, ragazzi, posizionategli, allora hanno detto e dichiarato questi maschiacci che volevano passarvi sulla testa, per qualcuno di voi vi faccio vedere chi siete, attenzione anche per voi, meno 5, 4, 3, 2, 1, via! Partiti per questa diciottesima edizione della Gran Fonte di Nuoto, bellissima questo spettacolo che hanno adesso...